Amate lo sport? Volete monitorare costantemente la vostra attività cardiaca, ma siete stanchi di usare le fasce cardio? Io ho la soluzione perfetta per voi e ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Questo braccialetto smart si chiama Fitbit Alta HR ed è progettato per monitorare l'attività fisica. A renderlo speciale c'è però una caratteristica chiave. Fitbit Alta HR rileva il battito cardiaco in modo continuo. In qualsiasi momento saprete quindi come si sta comportando il vostro cuore, sia a riposo che durante l'allenamento. Fitbit Alta HR si presenta come un piccolo braccialetto composto da un corpo principale e da un cinturino che può essere agilmente sostituito, anche in base al vostro look. Ma a cosa serve Fitbit Alta HR? Oltre a monitorare il battito questo dispositivo riconosce automaticamente il tipo di attività fisica, così da offrire maggiore precisione nel rilevamento dei dati di allenamento. Inoltre potete visualizzare la distanza percorsa, i passi fatti e le calorie bruciate. Per chi invece è solito lavorare in ufficio o passare molto tempo davanti al computer c'è il promemoria per il movimento. Lo smartband infatti vi incoraggerà a raggiungere un obiettivo orario di 250 passi. Il piccolo display OLED di Fitbit Alta HR non serve solo a mostrarvi le statistiche legate all'attività fisica. Potrete infatti visualizzare gli avvisi di chiamate, gli sms ricevuti e i vostri prossimi appuntamenti, il tutto senza consultare mai lo smartphone. Fitbit Alta HR può essere gestito da un'applicazione compatibile con iOS, Android e Windows Phone che permette di configurare qualsiasi aspetto dello smartband, dal tipo di informazioni da mostrare sul display fino alla personalizzazione della schermata principale. Non solo, l'app permette anche di sincronizzare tutti i dati registrati dall'Activity Tracker in modo da controllare ed organizzare qualsiasi parametro, come il tipo di attività fisica svolta maggiormente e i risultati raggiunti. Fitbit Alta HR non riposa mai. Questo smartband infatti lavora anche quando state dormendo, registrando la durata del vostro sonno e il tempo trascorso nelle fasi di sonno leggero, profondo e RAM. Tramite l'applicazione potete poi visualizzare tutti questi dati e ricevere consigli personalizzati per aiutarvi a riposare meglio. La batteria di Fitbit Alta HR dura fino a 7 giorni e può essere agevolmente ricaricata attraverso un pratico sistema di aggancio da collegare direttamente alla porta USB del PC. Direi che anche per oggi è tutto, io corro ad allenarmi con Fitbit Alta HR. Voi nel frattempo ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!